Ciao a tutti ragazzi e come sempre bentornati sull'angolo dell'unboxing Qui Angel3Dark3 che vi parla per un altro video acquisti Stiamo parlando di un bel pack opening Un pack opening molto 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 potente Ci saranno un casino di magliette Quindi partiamo subito e non perdiamoci in chiacchiere Partiamo subito Partiamo con questo saccozzo della spazzatura enorme E dentro è veramente pieno di maglie Dovrebbero essere 6 Ora le andiamo a vedere e contare Mettiamole qua Sacco della spazzatura vaffanculo Se non sbaglio in ognuna di queste ci dovrebbero essere le caramelline Vediamo Eh no stavolta non le hanno messe Sennò si impoverivano con tutte quelle che ho acquistato Partiamo con la prima maglia Ed è quella di Homer Simpson in versione Wolverine Con un bel sicarazzo Sta fumando E becca la ciambella Insomma Non odio i supereroi I Simpson non mi piacciono ma Non amo i supereroi come detto Non mi piacciono Quindi O la rivendo O non la metto Quasi mai Poi Andiamo con l'altra maglia E abbiamo Una maglia di Legend of Zelda Questa è figa Con i caratteri in giapponese Veramente bella Lui sul cavallo Questa è molto molto figa Link Che sta per scoccare la freccia sul cavallo Questa la metto Perché ho amato veramente il titolo Uscito su Switch E su Wii U Io l'ho giocato su Wii U Eh sì Su Switch Voglio dire La testa raga La testa Andiamo con l'altra maglia E troviamo Harley Quinn La pazza scatenata La ragazza del Joker Con la sua immancabile mazza Non lo so Mi sa Da maglietta femminile Forse la regalerò Alla mia ragazza Questa Non penso di mettermela Ottimo Così riesce anche un regalo a lei Ho detto Ne prendo di più Chissà che cosa mi esce E già siamo a 3 Andiamo ancora avanti E troviamo la maglia di Horizon Zero Dawn Molto bella Molto figa Questa penso di metterla Perché Il gioco mi è piaciuto Anche se mi ha scoglionato un po' Come gameplay Come fisica del gameplay Zelda se lo mangio A Horizon Come grafica no Ma come fisica del gameplay Se lo mangio A colazione Dai devo dire Che non mi stanno scendo Maglie brutte Quindi siamo già a 4 Questa è la quinta E troviamo un po' Cos'è? Chi è? Link Un'altra maglia Di Legend of Zelda Tutte belle Queste di Link C'è un puntino A posto Molto molto bella E questa la metto Ah no Le caramelle ci stanno Ragazzi ci stanno Questa se non sbaglio Era la quinta Caramellozze Come sempre Come sempre Grazie Quart E ultima maglia Stiamo un po' A vedere Di che cos'è? Ah si ho capito Quei film Tipo Il Castello Errante Di Howl Dello stesso autore Adesso non ricordo Il titolo Mi perdonerete Ma non guardo Quelle opere Ancora non ho avuto Modo di vederle Prima o poi Recupero tutti i film E li guardo Ditemi nei commenti Se sapete Il titolo Di questa maglietta E siamo A 6 maglie Ecco qua Continuiamo Con le magliette Altro paccazzo Altre caramelline Ormai Sto facendo Veramente scorta Di queste caramelle Ok non c'è nient'altro E troviamo La mitica maglia Di Berserk Con l'armatura finale Del Berserker Guardate che figa Se non ho sbaglio Questa ve l'avevo fatta A già vedere L'ho comprata Un paio di volte in più Perché ho visto Che non mi arrivava Da Quert E quindi l'avevo comprata Su Tete Questa era quella Che mi doveva arrivare Su Quert Se non sbaglio Ce ne dovrebbe essere A nessun'altra In questo video Uguale Che mi hanno Gentilmente inviato loro Perché questa non mi era arrivata Poi alla fine è arrivata Con un ritardo di un mese Ma è arrivata Pensavo di non vederla più Di aver perso i miei soldi Così ho la stessa maglia Tre volte Buono Alla fine è una maglia Che mi piace Che metterò spesso Altro acquisto Sempre su Quert Questi sono tutti quanti Acquisti su Quert Che profumo Che fanno Sti pacchettini Saranno le caramelline Altre caramelline Questa è veramente figa Come maglia Mi piace un casino Appena l'ho vista Mi sono innamorato La mitica maglia Delle tartaluque ninja Guardate che figa Stile fumetto Michelangelo O è Raffaello Sono sicuro Che sia Michelangelo Stupenda raga Stupenda Questa maglia Quando ero piccolo Le guardavo Le tartaruga ninja Avevo anche Le action figure Le tartaruga ninja Veramente belle Potete dire Fa un profumo Sta maglia Altra maglia Di Quert Non so perché Così Con questi Disegni Comunque Si capisce Di Quert C'è il loro logo Ah ho capito Perché è bianca E non è nera Questa è la maglia Che mi hanno inviato In regalo Perché quella Non mi era arrivata Altre caramelline Facciamo ancora Scorta Ma su quella Delle tartaruga Non c'era O forse si Non mi ricordo E E un'altra maglia Di Berserk Ancora una volta Quindi ne ho tre In totale Così Uguali Meglio Ho perso anche Il conto Delle maglie Altro acquisto Su Quert Via Un sacco Della spazzatura Andiamo a prendere Caramelline Sto parlando Della mitica maglia Di Kingdom Earth Di questa Mi sembra Che ne ho Pochissime Maglie di Kingdom Earth Forse questa È la prima O la seconda Adesso Non ricordo Veramente Stupenda Col cuore Gli Heartless Qui in alto Vedete Fatti molto Molto bene Disegnato Benissimo Sora Una maglietta Molto dark Molto Oscura Bellissima Fighissima A me piace Un casino Altra maglia Questa È Molto Molto Bella Questa Qua È Più Diciamo Di Design Altre Caramelline E sto parlando Della mitica Maglia Di Okami Un bellissimo Gioco Uscito Su Wii E Playstation 2 Guardate Che figo Cazzo Ho disegnato Benissimo Benissimo È Stupenda Stupenda Troppo Troppo Bella Non vedo L'ora Di farvi Vedere Anche il prossimo Acquisto Di maglie Che mi Arriveranno Saranno Molto 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 Pi belle Ultimo Acquisto Anche su Tede Acquisto Anche lì Ogni tanto Quando vedo Maglie Proprio Che mi Piacciano E non Poteva Essere Che Stavo Cercando Le caramelline Pure Su Tede Ma Su Tede Non Me Le manda Solo Quert Le manda La Mitica Maglia Di Berserk Gatsu O Gats Con L'armatura Del Berserker E Griffith Con L'armatura Del Falco Che Tiene In mano Il Bejlit Guardate Che Bello Cioè Stupenda Il Bianco Col Nero Guardate Che Contrasto Fatta Veramente Benissimo Stupenda Non Pensavo Fosse Disegnata Così Bene Cioè C'era anche Grigio Ma L'ho Voluta Prendere Bianca E Mi sa Che Ho Fatto Veramente Bene È Prove Stupenda Bellissima Non So Quante Maglie Siano Milioni Di Caramelle Forse Saranno Una Decina 13 Maglie Non Ho mai perso Il Conto Fate Il Conto Voi Come Sempre Vi Ricordo Se Il Video Vi Piaciuto Supportate Il Canale Con Un Bell Pollicione In Su Lasciate Un Commentino Qui Sotto Un Iscrizione Al Canale Qui Sopra Vi Ricordo La Campanellina Per Ricevere Tutte Le Notifiche Sui Video Che Farò E Come Sempre Al Prossimo Video